Si viene appunto dal pedagogista per determinate appunto problematiche o anche per dei dubbi, delle perplessità o delle situazioni appunto spiacevoli sia appunto a livello della famiglia ma anche per adolescenti, per ragazzi. Poi ovviamente ogni professionista è specializzato, comunque si dirige ed è diretto verso diverse tipologie di utenze. La consulenza pedagogica non è molto diffusa in Italia anche perché la stessa professione di pedagogista ed educatore è stata riconosciuta solo nel 2018 e quindi si sta via via appunto conoscendo e diffondendo sempre di più.